Prenderà il via giovedì 6 luglio l'ottava edizione dell'evento Memorabilia, incontri letterari che lasciano il segno per quattro giovedì consecutivi, a partire dalle ore 21, incontri e presentazione di libri nei giardini della Mediateca Montanari di Fano. Quali sono gli appuntamenti di questa? Inizieremo il 6 di luglio con Greta Cristini che ci presenterà il suo libro Geopolitica Capire il mondo in guerra di PM Editori, proseguiremo poi il 13 luglio con Roberto Tiraboschi e l'armonia dei frutti bacati di Edizioni EO, giovedì 20 luglio proseguiremo poi con Elena Stancanelli che presenterà il suo tuffatore per la nave di Teseo e il 27 luglio concluderemo la rassegna con Andrea Vitali che ci presenterà Genitori Cercasi, edito da Inaudi. Come tutti gli anni la rassegna sarà a ingresso gratuito e in caso di maltempo gli incontri si sposteranno presso la Sala Ipogea della Mediateca Montanari. Vi aspettiamo tutti i giovedì di luglio alle 21 presso i giardini della Memo. Torna a memorabilia è un appuntamento estivo molto atteso non solo per chi frequenta abitualmente la Mediateca Montanari ma un po' per tutta la città e negli ultimi anche tanto anche per i turisti. Arriviamo all'ottava edizione, un'ottava edizione che avrà un nuovo compagno di viaggio per la Mediateca Montanari per il sistema bibliotecario del comune di Fano che è Innovative Multiservice. Quattro appuntamenti anche quest'anno, tutti giovedì sera, il 6, il 13, il 20 e il 27 di luglio che ci accompagneranno a conoscere alcuni autori molto importanti della letteratura contemporanea italiana toccando anche alcuni temi e alcuni aspetti di carattere contemporaneo che sono di grandissima attualità.